Il pigiama Mi cambio Mi cambio Non è male che avevo il vestitino Quella una maglietta Allora, scegliamo la cosa Vediamo la faccia Scegliamo la faccia Mi lavo assolutamente la mano Mi asciugo Io l'avevo pettinato Una bella cosa per dormire Mi vado a complicare Spengo la luce Ora non mi vedrete più Raga Sono complicata Ora non mi vedrete più Perché sono senza luce Ciao ragazzi Buonanotte Ragazzi bentornati in un nuovo video Allora come ben sapete Questo video forse l'ho fatto 163 volte Quindi il pantalone Me lo ero passato così E il pantalone l'ho ancora sotto Quindi mi sono poi Già aperta il coso Perché l'ho fatto 3700 volte Ho rilavato 3700 volte i denti La faccia E le mani Ho messo 163 volte i denti E mi sono andata a collegare 163 volte Voglio salutare Aida Violetta Che sta facendo questo video In collaborazione E domani faremo La goodnight La Non mi dico La goodnight Questa si chiama La goodnight La Goodnight Vabbè Ora che lo dirò a Aida Come si chiama Lo scriverò tutto Tutto ciò Un bacione E A domani